Quarto mazzo Terzo turno Inizia Cambia il gioco Cambio Vieni Esca Che paura dello scherzo Dai Gioca sto monopezzo Tutto scemo È statisticamente impossibile Morgana Cos'era? Ranna gratis Cazzo Ranna gratis o ranna davanti pezzo? Ranna gratis Cosa fa lei? Combo climax all'uno Un 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 bel climax Un bel climax Se devo dire c'è lei Giusto Ok Posso Quando poggio climax posso pagare uno Gli altri miei prendono Che quando pestano Posso girare la prima Se cancola e salveggio Combat Schianto da uno Ponte Uno Arriversa Due Due C'è Come sta così vai Lo Un bel C'è ein Who Va doctra Fin kal 500 globale, posso tappare, c'è il tuo personaggio, se viene reversato posso curarti e metterti nei blocchi, ok, tanti, ok, quando usati brainstorm, quando usati invece c'è un personaggio do il 500, ok, vedi, tappo, effetto si tira e versa pure blocco, quante carte hai in blocco? 5, ora 3, chiesi, guarda, pronto? Sì, è fatto, è fatto, dura fino alla fine del mio turno? Non me ne frega niente, questa cosa? Cazzo, scarto, yes, e lei, guarda che ti scegge anche i massi. E la maghi, quando gioco prima spago uno a cazzo, faccio partire la maghi, prima, io lei, sto crosso, pago uno, per l'effetto. E faceva che? Quando loro pestano, dà agli altri che quando pestano, c'è con la prima. Cioè quando attaccano c'è chi la prima. Sì, se cancolle e salveggio. Va bene. Schianto front. Perché così forte quella carta? Sì. C'è con, cancolle, salveggio. Fai così forte quella carta. Cioè fai più uno o fai più due? Devi cercare. Sti cazzi. Lo dà agli altri, eh. Ok, però no, ma lei. E sono tre. Pari verso. Diretto da tre. Tre. Diretto da tre. Tre. Ok. Ok. Loco. Bene. 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 Cappello, scegli una carta alla mano, la metti coperta in memory, poi puoi pescare una carta No, no, pesco, pesco E poi varie E poi varie I jokerny che faceva? Entra, scelgo l'altra sua versione Se voglio posso ribalzare questo zero Entra, faccio marker, con marker questa se è contro il colore verde e rosso prendete 3000 A inizio della climax face posso succedere il giorno con l'altra L'altra è specchiata ma fa 9 giorni Quanto sono adesso d'attacco? 6, 2 e mezzo, 5 Quella l'altra sono al centro Si, che figa, poi sarebbe forte Non ti posso niente Va bene Come vuoi Cioè fa solo assassin quella Cioè uno zero, 4000, prendi più 3000 e basta Stanno prendendo il tampone, prendi più 3000 e basta Faccio il cappello Certo Non ci posso niente Al capire Certo Il mio comfortable Questo è un giro Non ci posso niente Ma non ci posso niente Molto E mi sono riuscito Inizio A mezzo Certo E mi hanno riuscito Q-Jogger Cos'era? 3 scarti 1? 3 scarti 1 6 reversi Il uso pensa che faccio qualcosa in campo Ci penso Grazie La tizia dà 500 globale Vale? Sì, 500 globale E quando usi un act puoi dare 500 a un pezzo Quella brain Yes E come fai a cambiare la versione specchiata? Dall'inizio del backlight massface posso fare change Dal cesso? Dal cesso Va bene Entra prima se ho board pieno Immagino Yes Prima scombo se ho board pieno Se tiri verso pesco uno E poi cerco uno di riprendere a periore Che novità Attacco fronte, sono 8 e mezzo Ok Per due? Penso 6 e 8 e mezzo Sì Va bene Il cap 2 e mezzo Siamo pari Ok Da? 2 No No Tacco diretto Sono sempre 8 e mezzo 3 e 2 Penso Yes Va bene 2 Sì 2 Tacco fronte 3 Penso Non ho visto Dalla 3 Effetto pesco uno Effetto cerco uno Non ho visto Molto Ho visto Uff Non ho visto Automattonya activist Po Li � e , Medio Fini ром Refresh otto. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Siamo un po' distanti come state a vedere, ma siamo un po' distanti. 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 Stoc rosso. Pago uno d'olio e freddo. Siamo un po' distanti. Siamo un po' distanti. Grazie. Siamo un po' distanti. Siamo un po' distanti. Siamo un po' distanti. 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 Entro Climax Phase, andro al cimitero Tacco diretto, da 2, non rimbalzo niente 2 Tacco diretto, front Non so l'italiano Tacco per 3 No, dito solo attacco e basta Tacco per 3, non rimbalzo niente Tacco Tacco Stemmi anche per me, per favore Tocchate più in più No, in scena di più Mi sa che in questa partita non mi curerò mai Faccio l'effetto Mi fermo Che ruoto Un buon Climax Stablusso Faccio partire la prima magica Mi fermo Penso si fa la seconda Mi fermo Mi fermo Mi fermo Mi fermo Mi fermo Schianto Da 1 3 4 Quattro Quattro Pago 1 Pago 1 Qua in memory Non faccio entrare in change Schianto Da 2 3 Pago 1 Memory Cesso 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 Pesco 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 Oh, magari tutti i climax in fondo. Beh, vabbè. Vedi, ti conto? Quanto sono belli di dragon, città maschiare. Sì. Quattro? Eh, sì. Refresh. Spatmo, usaci. Vai. Giratto. Entra. No. Quattro. Cinque. Quindi. No. Cinque. Cinque. Pasqua. Sperta che pensi di fare il protagonista. No, non lo faccio, vai. Non sai fare il protagonista? Mi basta che non lo riporto. Ah, lo so. Ok. Vabbè. 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 E con valore giù. Rocco. Un doppio. Più. Un doppio. Devo farti. Fai danni. Sì, vabbè. Sceglie della gente a rispira. Oh, che forza. Sì. Sì. Forse... Joker lo fa anche in difesa. Ma conviene? Ah, ho capito. Scengo cosa far partire prima, penso. Cosa fanno? Combo climax. Quando poggio climax, macino due. Se c'è un climax, sparo X, dove X è pari al numero di altri loro che controlli. In questo caso uno. Ok. Macino per la prima. Sparo uno. Sparo uno e basta, non preoccuparti. Ottimo. Seconda. Sì. E non sorrendo solo per farti ripartire. Sì. 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 Emanuele. Adelma mia. No. Credo che sopravvivevo? Sì. 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 No, goosebumps. Sì. Sì. Pirola! Sì, è finita Votate nega Sta ancora registrando Dopo mezz'ora Poi fai i tagli d'osso Oh, Sorrentino ha preso un altro gol dall'Ella Sennò come cazzo si fa? Cristo Dio È vero È la mia firma, non c'è problema Penso che si fuori No, il mio pubblico è l'angelo Può scrivere no a doppia mano No, vai, vai Grazie Ma sta ancora registrando Sì, dobbiamo aspettare assolutamente 30 minuti Dai, arrivento Oddio, ma perché? Ce l'abbiamo fatto Non la gioca, non la gioca Ma fanno Che troia Che troia Ma devo tenerli, sai che è stato compresso a merda Cioè, l'hai triggerato con l'Akazuki in alcun clima Cadro E' bastardo Quanto è sbrocca la Kizushima, quant'è sbrocca Guarda la Kizushima Era 1-0 Troppo forte, cazzo Ma perché esiste una carta così forte? Guarda fu Perché devi ceccare? E comunque Non hai cercato una volta prima Oh, tu non hai giocato contro Edo Edo con quella compola Fa sempre tre minuti E comunque io do la colpa a Sardin Edo gioca a Fensumi No, 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 anche la rossa No, non la gioca La Giri la giocava Ieri la giocava Ma che nazionalità sono quelle barche... Giapponesi qua Giapponesi qua Giapponesi No, 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 giapponesi Ah, giapponesi Quelle che non sono giapponesi sono tipo... Le verdi sono tedesche Cioè, nel verde ci sono le tedesche Ma scusa, i giapponesi non devono essere scarsi? Sì ma... Sì ma... Sono una unrealcita Doria di S i lati Grazie. Grazie.